Durante il lockdown, l'arte, in tutte le sue forme, ci ha permesso di evadere con la mente dalle mura casalinghe, di sognare e di sperare. Ora con l'allentarsi delle misure di contenimento da contagio, ritorna lentamente a mostrarsi negli ambienti del vivere comune. Nasce proprio per provare a ricolmare la frattura temporale e psicologica originata dalla pandemia, la mostra fotografica Getting Back. Dopo il successo riportato a Biceglie, giovedì 24 settembre, l'esposizione è approdata al Museo archeologico de Palo Ungaro di Bitonto. Curato dal fotografo Giuseppe Fioriello, con il coordinamento scientifico di Pietro Di Terlizzi, direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia, il progetto rientra nel cartellone del Cultura Festival, ex labore to work. 13 le artisti che hanno deciso di condividere con il pubblico i loro scatti. Alessio De Luca, Domenico Fioriello, Domenico Tattoli, Federica Claudia Soldani, Francesco Mezzina, Giovanni Rinaldi, Giuseppe Fioriello, Ivan Losapio, Mauro Ieva, Patrizia Ricco, Pasquale Amendolagine, Pio Tarantini e Stefano Di Marco. Obiettivo della mostra è invitare tutti, dopo il buio prodotto dalla pandemia, a tornare a ripopolare il vuoto pubblico per mezzo dell'atto comunicativo di Agno Autore, che si fa luce ed esprime la propria originalità e cifra individuale rifugiendo da impostazioni stilistiche comuni. Particolare il trittico proposto proprio dal curatore, che racconta il mondo dell'arte, prima, durante e dopo la pandemia. Il mondo dello spettacolo stenta a partire o a ripartire. L'auspicio è che si possa ritornare alla normalità, anche se quella normalità sicuramente non sarà più come prima. Quindi getting back, detto all'inglese, ma soprattutto che sia una luce nuova dell'alba, al Shais, o giorno. La mostra, inaugurata con il talk tenuto da Gaetano Centrone e Sabino Paparella sul tema Lavorare nell'ombra, sarà aperta fino a sabato 10 ottobre. Gli interessati potranno osservare le opere in esposizione dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 17 alle 19.